Allora se c'è la faccia da sbiro c'è la faccia da infame e se c'è la faccia da infame potrebbe assomiglia a questo qua. Si è lui è morto e dimmi qualche cosa non mi fa stare sulle spine come Frenkie che non mi ha detto un caso. Senti tu? Si. Quanti hanno detto che devi stare con i dottori? Ah si no i dottori hanno detto che maga vos con la ventina di giù salvo complicazioni Grazie! Grazie!